Musica E parliamo ora di sport, precisamente di un gemellaggio tra Calabria e Sicilia che è stato denominato Gemellaggio dello Stretto. L'evento è stato organizzato dalla Tecundo Guerra di Catanzaro e si inserisce nell'ambito del quarto Gran Galà. Durante la serata sono stati assegnati numerosi riconoscimenti a giovani atleti che si sono contraddistinti per il loro costante impegno sportivo. Vediamo. Musica 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 Il maestro Tonino Guerra ci ritroviamo con lui questa sera per il quarto Galà del Tecundo. Un momento che ormai si ripete ogni anno, ogni anno sempre più in grande, quest'anno anche con un gemellaggio con la Sicilia. Un pensiero su questa manifestazione, dalla difficoltà di organizzarla fino alla soddisfazione di condividere questa serata con tanti atleti. Allora, innanzitutto un doveroso mio saluto in nome di tutta la società guerra che rappresento. È una serata particolare come ha sottolineato il quarto Gran Galà perché è importante, oltre al gemellaggio sportivo che non ha precedenze sul territorio, ci sarà il maestro Bartolo Taormina, il presidente del comitato regionale FITA Sicilia, ci sarà il maestro Luigi Castella che è responsabile del tecnico della società Pantrella della Polizia di Stato. Questo gemellaggio non fa altro che consolidare un rapporto di amicizia che si tramanda da tempo. È arrivato il momento giusto per farlo, in quanto questo è l'anteprima, una grande vetrina qui al Teatro Tenda di Soverato, bellissima struttura impiantata alla grande, direi, con tutti i comfort, eccetera, eccetera. Dicevo, è importante perché anticipa il trentennale che l'anno prossimo festeggerò assieme a tutti coloro che hanno lavorato per trent'anni, assieme ai tecnici, cinture nere e cinture bianche, tutti quelli che fanno parte del secondo guerra di Catanzaro. È una grande soddisfazione averti qui perché la cosa ci lega anche per altre vicende sportive, altre trasmissioni e sono felice di condividere con te questa serata perché assisterà a delle cose bellissime. Quest'anno il Gran Galà ha assunto una valenza molto importante, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista del mio personale orgoglio, perché ho al mio fianco due personaggi illustri del mondo sportivo della regione Sicilia. L'importanza di questo connubio, lo sport che unisce la Sicilia e la Calabria insieme per condividere questi momenti e per crescere sicuramente? Sicuramente, questa è una dimostrazione che lo sport può essere anche nel sociale, allargarsi nel sociale, culturalmente, aggregazione con le altre regioni e poi per me è un piacere, anche se vengo da lontano, venire, essere stato invitato dal maestro Torino Guerra dopo tanti anni che ci conosciamo, per me è stato un onore venire. Sono tanti anche quindi gli atleti siciliani che hanno questa forte passione per il taekwondo, dicevamo col maestro Torino Guerra, sicuramente uno stile di vita condiviso da tutti, uno stile che aiuta anche nella formazione della persona. Principalmente la formazione, perché lo sport, in particolare il taekwondo, lo sport che noi pratichiamo avvicina le persone. Noi anzi a Palermo proprio stiamo portando avanti un progetto unitamente alla Polizia di Stato per togliere dei bambini dalla strada, nei quartieri più a rischio, che notoriamente sono lo Zenne, Borgo Nuovo e Borgo Vecchio e stiamo proprio portando questi ragazzi vicino a noi e li stiamo avvicinando allo sport. Tutto questo grazie alla collaborazione della Polizia di Stato e alle istituzioni, sia regionali che locali, che ci stanno aiutando con l'aiuto di psicologi, fisioterapisti, atleti, tecnici. Noi siamo oggi felici di essere qui, perché questo sodalizio tra la Calabria e la Sicilia non solo sta a suggellare un rapporto di amicizia che dura da 30 anni, ma sta a suggellare un rapporto professionale, perché stiamo chiamando professionale, perché ommeno sport è diventato anche una professione. Sempre però con la passione e con l'amore per questo sport. Anna Guerra, una giovane, rappresenta quindi la nuova generazione protesa verso lo sport. Una sportiva, una studentessa, un'artista. Nello specifico del tecundo sei istruttore tecnico. Quanto è bello conciliare la tua vita con lo sport, che sicuramente per te è diventato veramente uno stile di vita? Sì, per me è sicuramente uno stile di vita, perché da quando ero veramente molto piccola, che sono nell'ambito sportivo, è una cosa bella, sicuramente richiede sacrifici, però sono dei sacrifici che poi vengono ripagati, con tutti i benefici che si traggono poi da questo stile di vita. Sei proprio tu un esempio di quei ragazzi, come dicevamo anche prima, mentre chiacchieravamo io e te, che anziché scegliere delle vie un pochino tortuose, diciamo così, scelgono la via dello sport, che sicuramente è un modo per crescere, per fare un'attività sana. Certo, certo, è il modo proprio di evitare stare lontane da queste tentazioni. Ovviamente si conoscono proprio per evitarle. Un messaggio da parte tua a chi magari non ha molta dimestichezza col tecundò, ma anche con altre discipline sportive. Cosa vuoi dire ai tuoi coetanei, magari per avvicinarli allo sport, per incuriosirli un po'? Il mio messaggio è appunto quello di provare a praticare questo sport, perché proprio nello specifico il tecundò ha diverse sfaccettature. Magari c'è la specialità del combattimento, dove si trovi davanti un avversario, ma c'è anche la specialità delle forme, dove invece ti confronti solo con te stessa e quindi accresci anche la tua autostima notevolmente. Qualcuno può farlo anche per una difesa personale? Sì, sì, nasce proprio come difesa personale questo sport. E da quattro anni in su possono provarci tutti. Sì, sì, sì.